è il segreto non so mi può dire chi ora sono 15 e 17 15 e 17 quindi mi pare di capire che state lavorando voi in perfetto radio lavorativo ferie pagate giustamente è più mentale lo sforzo giustamente questo è un classico cantiere di solo pittura come potete vedere i miei fanciulli tranquilli e beati li ho beccati li ho becchiati qui dovremmo essere sotto casa qualche giocatore perché ci sono giornalisti non so gente che strilla evidentemente evidentemente ma che c'è l'aspetta al presidente a lei a lei sto dicendo a lei no non l'attende a lei l'attende il presidente non so niente a fare come era quella della colombia sono stato toccato il mancino ah sì vero ma quest'anno ci dobbiamo andare non diciamo dove sta perché sennò i tifosi stavolta però l'altra volta ne abbiamo rotto il cazzo abbiamo fatto i bravi abbiamo fatto i professionali ma sta volta la mano io la dovevo dare ecco No, no, no.